buongiorno da stefania bonomi e benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 19 maggio andiamo subito a vedere qual è il santo del giorno oggi si festeggia san pietro celestino quinto papa contemplativo amante del silenzio dimora di dio san pietro celestino quinto papa è ricordato dalla chiesa il 19 maggio il santo è noto per aver indetto il giubileo della perdonanza nel 1294 e per il breve pontificato culminato nella rinuncia a pochi mesi dalla sua elezione e andiamo a vedere le previsioni del tempo purtroppo da tanto aspettiamo tutti di poter andare al sole di prendere un raggio di sole o anche solo di godercelo e di vederlo ma purtroppo ancora dobbiamo aspettare almeno fino a domenica le condizioni meteo nel complesso sono stabili ma con molte nube a tratti anche compatte possibili isolati fenomeni in appennino a questo punto vediamo anche il vento sul mare onde con creste che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitrio si notano alcune pecorelle con la cresta bianca di schiuma il sole sorge alle 5 38 e oggi tramonta alle 20 e 37 bene allora andiamo un po a vedere che cosa è successo dopo tutto quello che è successo tutti questi danni incredibili che ci sono stati questo maltempo che ha portato veramente tantissime tantissime alluvioni ovunque ci sono stati veramente dei disastri molto importanti è chiaro che ancora la nostra rassegna stampa punta molto parla molto di questa situazione anche se mentre vediamo la pagina del corriere adriatico vogliamo ripartire fango e acqua da cattabrighe a torraccia attività ancora chiuse e da qui infatti si parte alto montefeltro il conto è ancora molto salato ho rivissuto l'incubo del mio piccolo mattia la regione chiede lo stato di emergenza e questa è la prima pagina del corriere adriatico la pagina del resto del carlino da una bella immagine allo sport vl che impresa si va a gara 4 pesaro batte milanio e tiene aperta la sfida playoff ci sarà sabato la sfida e ecco che qui torniamo ancora sul maltempo danni già una raffica di richieste decine di chiamate in comune intanto la regione chiede al governo lo stato di emergenza per le marche ecco un'altra notizia sempre che riguarda il maltempo ma che riguarda il bio laboratorio in zona torraccia non si può fare perché l'alluvione ha dimostrato che questo laboratorio che era già incontenzioso da parecchio tempo non si può fare andiamo poi alla protesta vivaio pantanelli ancora allagato colpa dei fossi zero interventi sempre il resto del carlino abbiamo una parco della pace rivoluzione energetica la piscina tutta nuova con i costi abbattuti e poi si torna al caso di scarica gambini gioca in difesa queste sono le notizie principali ma andiamo adesso a vedere un attimo nel dettaglio allora partiamo dal corriere adriatico e vediamo subito che parliamo ancora di tutto quello che è successo in questi giorni a causa del maltempo dopo l'emergenza mure collini e costoni qui viene giù tutto frane smottamenti da nord a sud della regione i sindaci avevamo chiesto fondi troppo tardi sempre quando succedono poi questi questi eventi succede sempre che ci si chiede se si poteva prevenirli e quindi poi una volta che le cose sono piano piano si sistemano si va a capire se questi eventi si potevano prevenirli però purtroppo non si sa mai chi ha ragione o chi può non avere ragione in questo caso ed ecco qua l'intervista al geologo Farabollini ripensare le aste dei fiumi e occhio alle frane problemi noti da tempo basta agire in emergenza Piero Farabollini presidente dell'ordine dei geologi delle Marche dice la nostra regione a solo otto mesi da quel tragico 15 settembre 2022 è stata di nuovo colpita da un ovento atmosferico estremo che ci ha messo ancora a dura prova il governo il governatore Francesco Acquaroli ha stimato che per la messa in sicurezza del territorio ci vorrà oltre un miliardo ma da dove si deve ripartire queste sono le domande le risposte sono si potrebbero creare invasi artificiali nelle zone collinari utili anche per la siccità ed ecco qua sempre per quanto riguarda il ricordo Tiziano Lucconi il papà del bambino travolto dall'alluvione del 15 settembre ho rivissuto l'incubo di mio figlio Mattia ogni goccia di pioggia per me è un colpo al cuore non si fa prevenzione a parlare Tiziano Lucconi che ripercorre gli stati d'animo e pensieri che l'hanno attraversato durante l'allerta arancione di martedì e mercoledì quando il fiume Misa ha rischiato di esondare di nuovo la sua mente è tornata indietro di otto mesi a quel drammatico 15 settembre in cui la sua vita è stata stravolta quando ha perso ciò che di più caro aveva il figlio Mattia poverino di appena otto anni e lui oggi cosa dice dice vorrei fare qualcosa per le popolazioni colpite dal disastro in Emilia Romagna una fattoria didattica per bimbi speciali come lui il modo migliore per ricordarlo andiamo a vedere poi cosa sempre restiamo sul Corriere Adriatico e andiamo a vedere sempre Montefeltro il dissesto strade sbriciolate il sindaco di Montegrimano solo noi avremo dagli 8 ai 10 milioni di danni il primo cittadino di Macerata Feltria dateci i soldi sappiamo come usarli restiamo sempre sul resto del Carlino e andiamo alle pagine di Fano entriamo nelle pagine di Fano e vediamo non c'è tantissimo che viene dedicato a tutto quello che è successo anche a Fano per quanto riguarda l'alluvione diciamo che oggi Fano magari vuole fare una pagina un pochino che si scosta abbiamo veramente tanto parlato di tutto quello che è successo oggi Fano punta sull'economia offerta di lavori stagionali rispondono i giovanissimi inconti tradattori aspiranti dipendente il target 18 20 anni il più interessato un bel progetto ed ecco ancora il grande teatro omaggia Ruggeri c'è anche Elio Germano il direttore artistico Pugliani presenta il programma evento dal 25 al 27 maggio il comune di Fano in collaborazione con la fondazione triato della fortuna la fondazione di Cariano la banca di credito cooperativo il liceo Nolfi ha organizzato dal 25 al 27 maggio tre giorni di iniziative mostre conferenze rappresentazioni che si svolgeranno alla Rocca Malatestiana e nella Pinacoteca di San Domenico. Attenzione a scontri tra tifosi a Ponte Metauro adesso il Diaspo sono diventati 12 sono stati denunciati con l'accusa di rissa aggravata nei guai anche 5 supporti della Vigor Senigallia. Si è allungata la lista delle persone sottoposte a Diaspo il divieto di accedere a manifestazioni sportivi dopo la rissa avvenuta il 2 aprile scorso a Ponte Metauro tra i tifosi di Alma Fano e Vigor Senigallia. Erano 8 i provvedimenti disposti dalla questura di Pesaro Urbino nelle fasi subito successive. Ora sono diventati 12. 5 riguardano sostenitori della Vigor. Specificava ieri una nota diffusa dal personale del corrimmissariato a Senigallia. Il progetto Tracce d'arte e libertà bambini protagonisti. Successo destinato a diffondersi per l'iniziativa alla Primaria Montesi. Tracce d'arte contemporanee a scuola. Le hanno disseminati i bambini e le bambine della Primaria Montesi a Sant'Orso di Fano. Alcuni di loro sono tornati a casa con i colori fin sopra i capelli ma tutti entusiasti e felici di aver contribuito a realizzare qualcosa di bello e creativo come un quadro creato sotto la guida attenta e rispettosa di alcuni artisti. E poi ancora la cronaca schianto moto contro auto. Il Centauro è all'ospedale. Lo scontro è stato a Falcineto ed è rimasto illeso l'altro conducente. Spostiamoci a Valmetauro. Il trionfo del Carnevale. Stiamo aspettando appunto il Carnevale di Fossumbrone. Gara Equestre per il Palio. Con la rievocazione storica di maggio, un tuffo nel Rinascimento. E viene spiegato appunto il programma di questa bellissima manifestazione che io ho visto e consiglio veramente di andare a vedere perché veramente riescono a farti rientrare proprio nella storia del paese. E infatti la rievocazione storica che quest'anno riserva sorprese ancora tutta da scoprire ha sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione che vede le sue origini nel 1559 quando il cardinale di Urbino Giulio della Rovere, fratello del Duca Guido Baldo II, decise di onorare la cittadina metaorense ed i suoi abitanti organizzando un torneo cavalleresco. Quindi sarà veramente una manifestazione molto carina. E poi andiamo invece al caso. Nascondeva in casa nove epigrafi, è stato denunciato. È stata sequestrata una collezione nell'ambito di un'inchiesta del nucleo del TPC. Spostiamoci invece alle pagine della Val Cesano. Abbiamo il progetto Un valore di impegno e fatica. Una sfida lanciata ai ragazzi. Volontariato e cittadinanza attiva. Esperienza per un'estate da ricordare. Cittadinanza attiva e volontariato. Bene comune. Sono questi gli ingredienti del progetto estivo Ci sto a fare fatica. Facciamo il bene comune giunto alla quarta edizione. Finanziato dalla Regione Marche e coordinato dal CSV Marche, al quale anche quest'anno aderisce l'amministrazione comunale. Sempre molto bello coinvolgere i ragazzi nell'impegno civile. Ed ancora storie di donne pergolesi. Toponomastica al femminile. Conferenza dell'Auser nella sala conciliare. È una festa con gli amici per i cento anni di Leonite. L'omaggio floreale del sindaco e l'affetto di tutta la famiglia. Un quartiere in festa per i cento anni di Leonite sagrati. Una giornata speciale. Così l'ha definita il sindaco Nicola Barbieri che a nome dell'amministrazione comunale si è congratulato con la bisnonna che ha scelto da tempo di abitare a Mondolfo. Era originaria del volco di Loretello. E passiamo a vedere cosa è successo a Senigallia. Senigallia anche lei è stata colpitissima dall'alluvione. Ecco infatti che torniamo a parlare del maltempo. Fosso, Sant'Angelo, Argini e Spiaggia. L'emergenza è finalmente passata. Ma questi sono i lavori che adesso bisogna fare. C'è la variazione di bilancio di un milione. Olivetti spiega. Gli altri fondi non li tocchiamo per ora. Approvata ieri una variazione di bilancio della Giunta per studiare la riapertura del Fosso Sant'Angelo a mare che martedì straripando ha provocato l'allagamento del quartiere delle saline. Soldi sono previsti anche per risolvere la criticità dello smaltimento delle acque meteoriche nel comparto di via Tevere. La grata del Fosso non è stata aperta per fermare tronchi e detriti che altrimenti si sarebbero infilati nei tubi interrati provocando danni maggiori come spiegato dall'ente. Quindi per il momento l'emergenza è finita ma si parla ormai. Adesso tutti gli argomenti saranno su come chiaramente risolvere tutto quello che è successo e quanti soldi investire nella risoluzione di quelli che possono essere stati i danni causati. Senigallia invece. Passiamo a un fatto di cronaca. La furbetta del reddito di cittadinanza prendeva l'assegno e faceva la badante. Non è il primo caso che succede. La 45enne lavorava come collaboratrice domestica in tre abitazioni e è stata denunciata dai carabinieri. Per il fisco era nulla tenente. Gli sequestrano tre immobili. Altra casistica. Sequestrati tre immobili per un valore di circa 500 mila euro ad uno plurigiudicato per il fisco risultava nulla tenente. Ritorniamo a questo punto al nostro resto del Carlino. Abbiamo visto tutta la rassegna stampa del Corriere Adriatico e invece il resto del Carlino parte come ho detto da un discorso sportivo ma andiamo a vedere l'interno. Allora innanzitutto la furia del diluvio. Tutti chiamano in comune per gli aiuti in poche ore richieste per 500 mila euro. La regione chiede lo stato di emergenza. Il sindaco Ricci, strade, ponti, impianti, strutture pubbliche e private hanno danni per centinaia di milioni. Martedì prossimo il governo decide sulle aree di Emilia Romagna e Marche da finanziare subito. Sempre parlando del diluvio, della furia del diluvio. Il vivaio sott'acqua come sempre scandalosa la gestione dei fossi. La rabbia della famiglia Pantanelli. Noi segnaliamo nessuno fa nulla. Questo disastro si poteva evitare. Ci risiamo per la seconda volta dall'inizio dell'anno. Il vivaio Pantanelli di Laura Pantanelli e suo marito Luigino Coccia è stato sommerso da acqua e fango. L'alluvione da record ha messo in ginocchio mezza provincia causando anche problemi consistenti come accaduto all'azienda di strada della Fornace Vecchia. Le forte piogge hanno causato l'allagamento dei locali interni dei vivai già a partire dalle 14 di martedì. Masse consistenti di acqua provenienti dal fosso di case bruciate hanno messo in ginocchio l'attività e non solo questa perché tante altre attività sono state messe in ginocchio con l'acqua che ha invaso cucine di ristoranti e locali attività commerciali. Sempre a Torraccia il rischio. Qui il biolaboratorio non si può realizzare come avevamo visto in prima pagina. Il consigliere dell'opposizione dall'asta mette in guardia. Il fiume Foglia può allagare l'aria. Lo dimostra quello che è avvenuto in via Furiassi. Dietro Palavitri non può essere realizzato l'ampiamento dell'istituto zooprofilattico. L'aria è esondabile dice proprio Giovanni dall'asta. Qui il fiume Foglia può allagare come dimostrano gli oltre 60 centimetri di acqua in fondo a via Furiassi a solo 600 metri di distanza. Entriamo poi nelle pagine sempre di Pesaro. Il miracolo della piscina. Costi abbattuti della metà. Efficientamento energetico. Pannelli. Sport Village rilancia al Parco della Pace. Ricce dell'Adoro. Un esempio virtuoso. Risparmi per un milione di euro. Fatti di cronaca. Incidente. È positiva all'alcol. Ha bevuto 4 vodka ma dopo l'urto. Vabbè questa fa un incidente e poi si beve 4 vodka. Il giudice infatti l'assolve. L'imputata ha detto di essere uscita dall'auto e dopo aver preso i superalcolici. La discarica di riceci. Gambini. Nono ruoli. Comitato presente in aula. Ieri sera dibattito sotto tono in sede di commissione del comune di Urbino. Il sindaco che in base alla convocazione doveva riferire si è totalmente defilato. Vediamo le pagine di Fano. Trince contro il sottopasso. Scatta il sit-in. 5 associazioni si mobilitano contro la struttura di viale Cairoli. No ad una costruzione senza alberi e priva di qualità architettonica. No ad un sottopasso senza alberi, privo di qualità architettonica che stravolgerà la bellezza e la vivibilità di viale Cairoli. 5 associazioni del territorio. Argonauta, la Lupus in Fabulo, l'Italia Nostra, le Gambiente Fano e l'Associazione di More Storica e delle Marche organizzano per domani alle 17 un sit-in all'incrocio tra viale Cairoli e via Filzi al quale invitano tutti i cittadini a partecipare. Cosa chiedono? Chiedono un progetto diverso da quello presentato alla stampa con un sottopasso accessibile a tutti ma senza sacrificare i 15 grandi platani. Bimbe lasciate in casa da sole, coppia nei guai per abbandono, le due figlie piccole in casa da solo di sera, la mamma al bar dove lavorava il nuovo compagno. Un'uscita che è costata alla coppia, non solo alla donna, la denuncia per abbandono di minori in concorso, accusa per la quale riscano ora di finire a processo. Vetrata spaccata a colpi di sax, artista di strada non punibile. Aveva spaccato a colpi di sassofono la vetrata del portone di ingresso di Palazzo Gabuccino in corso Matteotti e si era anche azzuffato con uno dei residenti e tutto perché l'amministratrice del condominio gli aveva chiesto di non suonare davanti al loro stabile ma di spostarsi altrove. È stato denunciato e finito sotto processo ma ieri è stato dichiarato non punibile. E torniamo alla notizia che abbiamo già visto al Corriere Adriatico. Elio Germano sbarca in città per celebrare Enrico Ruggeri. Proseguono le manifestazioni in onore del grande interprete del Novecento. Elio Germano arriva a Fano per celebrare uno dei suoi più illustri cittadino Ruggero Ruggeri, l'attore ideale di Pindarello. Proseguono infatti anche quest'anno con un ricco cartellone di eventi in programma dal 25 al 27 maggio. Le celebrazioni di Fano con Ruggero Ruggeri. La consigliera Grillina e Sir Filippi la legge sull'attore è stata scopiazzata, dice una legge per valorizzare la figura di Ruggero Ruggeri tra i marchigiani più illustri nel campo della cultura, orgoglio della città di Fano e testimone del valore del genio italiano. Ed andiamo a vedere invece sempre le pagine di Valcesano entro fine giugno in funzione gli ascensori. Marotta a distanza di quasi due anni dall'apertura del sottopasso verranno attivati finalmente per consentire l'utilizzo anche alle persone in carrozzina. A Urbino è stato ripristinato il collegamento con Gadana. In tempi record è stata spostata la sede stradale Gambini. Abbiamo schivato i problemi alle fognature. Smuttamento a Calalagia. Ed ancora sulle pagine di Urbino missione archeologica a Cirene tra le eccellenze. Il riconoscimento è stato reso noto a Roma nel corso di una tavola rotonda con i ministri Tajani e San Giuliano. sempre a Durbino e Montefeltro. Non abbandoniamo le imprese. In crisi per i lavori alla contessa. Il consigliere regionale Micaela Vitri rilancia l'appello alla regione. Servono ristori. Il problema riguarda l'area di Cagli e Cantiano. Timori per i lunghi tempi del cantiere aperto da poco. e direi che con questo abbiamo praticamente visto quali sono le principali notizie ma vi posso assicurare che ce ne sono tante altre molto importante sempre che riguardano l'alluvione. Io direi di chiudere questa nostra rassegna stampa parlando di un evento di enogastronomia che è sempre una cosa piacevole. Oggi alle 20 all'Osteria della Peppa di Fano si presenta il nuovo piatto. Pasta fatta a mano, trafilata e ripiena di zuppa di mare con il suo sugo. Conchiglia di brodetto. Questo è il nome del nuovo piatto. Come assaggiare il mare. Con questa notizia io chiudo la rassegna stampa di oggi. Vi saluto. Noi ci rivediamo domani mattina sempre alle 7.00 e naturalmente l'informazione torna questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Buona giornata da Stefania Bononi.